buongiorno a tutti allora magliettina della settimana spero che si legga sniaus sniaus detto questo andiamo allora innanzitutto devo spiegare la diretta di oggi l'ho fatta a durare mezz'ora perché ero da solo è venuto solo la ioia 10 per qualche minuto poi ho visto che sono rimasto da solo mezz'ora era abbastanza inutile fare una diretta per me stesso e quindi l'ho chiusa anticipatamente come dicevo credo che le dirette ne riparleremo a settembre a meno che non vi diciate un po' di persone vogliamo fare la diretta e ci siamo a lunedì detto questo andiamo alle cool news chiuro provincia di sondrio 17 aprile 2020 quindi circa un mese e mezzo fa comprando un cartone di vino puoi adottare una piantina di vite e darle il nome che preferisci con questa simpatica iniziativa francesco fullini 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 con una l sola uno dei giovani vigneron valtellinesi dimostra che in un momento così difficile non ha senso perdersi d'animo meglio sperimentare di fronte all'impossibilità di muoversi allo stallo creato dalle restrizioni indispensabili per salvaguardare la salute generale si è inventato un nuovo modo di incuriosire i clienti vecchi e nuovi ho chiamato un'iniziativa chi ama la vite chi ama la vite chi ama la vite a ogni persona che compra un nostro cartone di vino diamo la possibilità di dare il nome che preferisce a una barbatella che abbiamo messo a dimora nel nuovo appezzamento recuperato all'interno del vignetto don's bell fiore all'occhiello della mia azienda spiega folini che in una settimana ha battezzato ben 30 piantine e come se le persone o le famiglie le adottassero le vedono crescere e ne apprezzano le evoluzioni anche se per ora solo a distanza per colmarla di settimana in settimana in settimana invio le foto poi la cadenza si farà meno ravvicinata con l'augurio che alla fine dell'emergenza gli interessati possano apprezzare di persona i progressi ha aggiunto naturalmente nonostante le difficoltà non abbiamo perso nemmeno un giorno in vigna abbiamo continuato a lavorare con tutte le precauzioni del caso dal punto di vista commerciale invece si è azzerato tutto precisa io per fortuna oltre a produrre vino e a vendere bottiglie a ristoranti e bar conferisco l'uva spero che almeno in tal senso non ci siano ripercussioni di positivo se così si può dire ci sono il piccolo aumento delle vendite ai privati tramite l'online e l'incremento del camannale degli alimentari mentre l'azzeramento dell'oreca hotelier restaurant caffè ha investito anche il suo agriturismo da 22 posti a sedere parte integrante di un'attività familiare iniziata tempo fa precisamente dai 4000 metri di filare sul dos bel di proprietà della nonna entrato a tempo pieno in azienda nel 2013 il giovane è iniziato come collaboratore del padre da subito si è innamorato del lavoro a tal punto che nel 2016 ha ritirato l'azienda negli anni è stato un crescendo non solo di bottiglie da 3 a 9 ettari coltivati con 40 apprezzamenti tra chiuro teglio ponte trevigli tresivio tresivio poggi ridenti e sondrio quindi sono tutte zone della di sondrio provincia di sondrio quindi siamo abbastanza vicini perché calcolate che sondrio abbiamo siamo equidistanti se vogliamo da como sono a 60 chilometri e da sondrio sono a più o meno 60 chilometri più o meno oggi dall'azienda agricola folini escono circa 700 quintali d'uva di cui il 20 per cento destinati all'imbottigliamento ogni anno sono circa 10.000 le bottiglie prodotte divise in sette etichette folini si è capito ama sperimentare bene mi ha fatto piacere pubblicizzare anche se io non sono un bevitore di vino so che comunque qua in zona di gente a cui gli piace il vino ce n'è veniamo a quello che è successo un mesetto e mezzo fa in una sera salentina non vi dico quando luce intense il cielo non sono mancati alcuni post su facebook di cittadini allarmati tante segnalazioni tanti commenti e post su facebook e le ormai scontate teorie complottiste pronte a uscire fuori nella notte di una certa serata tra le 22 e le 22 30 sul cielo del salento tante persone hanno dotato numerose intense luci in fila alcuni si sono allarmati altri hanno pensato a qualche stella più evidente di altre la protezione civile sulla sua pagina facebook ufficiale intitolata protezione civile salento ci ha tenuto a specificare immediatamente l'accaduto con un lungo e dettagliato post vediamo qual è questo post il post della protezione civile viene intitolato viene intitolato scusate strane luci sul cielo del salento di seguito il post completo il cielo limpido di oggi ci permette di godere delle stelle ovviamente dove l'inquinamento luminoso e minore si possono abbinare corpi celesti meno visibili in condizioni di luce urbana stasera molti ci hanno segnalato però il passaggio di strane luci equidistanti visibili ad occhio nudo le luci erano in fila ed erano numerose di che si tratta ebbene sono satelliti starlink poi il post ci tiene a sottolineare di cosa si tratti cosa sono questi starlink dice si starlink è un progetto di connessione internet via satellite sviluppato dal produttore aerospaziale americano space x basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni posizionati in un'orbita terrestre bassa due prototipi sono stati lanciati nel 2018 il dispiegamento dei satelliti è iniziato nel 2019 con l'entrata in servizio prevista nel 2020 per raggiungere i suoi obiettivi commerciali space x prevede di mantenere nel tempo 12.000 satelliti operativi in orbita bassa 12.000 12 attenzione tuttavia si prevede che la costellazione iniziale comprende da solo 1600 satelliti nei primi anni per poter affinare la tecnologia le tecnologie prima che una costellazione completa venga lanciata anche perché se cade non è una cosa carina che se saranno magari dei satelliti di particolini capite che vi cade un satellite non è il massimo comunque staremo a vedere tra un po avremo anche satelliti che ci girano intorno terza notiziola corto circuito corto circuito e famiglia di affittuari salvata a villa donà delle rose famosa per vacanze di natale 2011 la villa dei set cinematografici più nota di cortina è andata a fuoco nel cuore della notte affacciata sulla valle con una vista mozzafiato sull'intera conca e poco distante dal centro di cortina in località crignes ha fatto sognare gli amanti della regina delle dolomiti della vita dei vip e del cinema non c'è residente di cortina che non conosca sia per bellezza che per la fama della location villa donà delle rose proprietà di nobili veneziani in località crignes da de sicca a malcovici chi non l'ha mai vista se la può certamente ricordare per l'esilarante vacanze di natale 2011 ultimo di un'indelebile serie di cine panettoni che hanno fatto storia diretto e sceneggiato da neri parenti proprio in quella camera da letto si sono svolte alcune scene con cristian de sicca e la bellissima sabrina ferilli durante le loro ambitissime vacanze invernali a gennaio 2019 la stessa villa ha ospitato la troupe di paolo sorrettino per the new pope con un fantastico john markovic che camminava in quel lussoso salotto e si affacciava sulla terrazza che abbraccia la valle da questa notte dopo poco dopo le 5 di mattino ma quella notte quella notte ormai di un mese e mezzo fa abbondante forse due come cantavano una canzone milione di anni fa forse due qui è un mese e mezzo fa o forse due l'allarme per i vigili del fuoco che sono giunti sul posto quando le fiamme erano già alte famiglia di vicentini in salvo gli stessi riferiscono che l'incendio potrebbe potrebbe probabilmente essere stato causato da un cortocircuito elettrico scatenatosi da una zona sotto tetto al suo interno sei persone madre padre tre figli e la governante con loro anche un cane e un gatto fortunatamente nonostante le fiamme avessero già preso spazio anche nell'abitazione per tutti è stato possibile mettersi in salvo in attesa dei soccorsi il guardiano della villa sul posto anche nella tarda mattinata successiva ha riferito che uno dei cellulari dei signori era già sciolto e quindi inutilizzabile completamente distrutta la parte superiore mansarda dell'abitazione a causa del fuoco e fortemente rovinato anche il primo piano per colpa dell'acqua utilizzata dai vigili del fuoco e perché giustamente dove andamare le fiamme e spegnere l'incendio la famiglia che era lì in affitto da tutto l'inverno beati loro che si possono permettere la villa grande libidi coi fiocchi è già rientrata a vicenza nella loro casa di residenza bene speriamo che la rimetano a posto perché sicuramente per qualche altro film andrà sicuramente bene poi cortina come si suol dire sempre cortina grande battuta di di gerry caleo e guarda che siamo a cortina dica l'urda va bene che faccio miracoli però non esageriamo detto questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video sperando che i miei criceti si diano una mossa perché sennò questo video lo vedete martedì nella giornata proprio nella giornata anche nella nottata tra lunedì e martedì nella nottata perché si sta caricando ancora quello che ho fatto oggi alle due io non ho veramente parole coi criceti del mio cellulare o vanno in 4 g o vanno in 2 g a rilento e vabbè detto questo ci vediamo alla prossima ciao